Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale sui temi dell'attualità politica e economia realizzato nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi ospiti in studio i consiglieri Rocco Valentino, Gruppo Fassa Italia e Lamberto Bottini, Partito Democratico. E' la prima puntata dell'anno, c'è stato un periodo di pausa anche per le nostre trasmissioni informative dal Consiglio. L'attività vera riprende subito, già da questa settimana ci sarà Consiglio regionale, ci sarà il dibattito sulla legge elettorale di cui molto si parla. Io però vorrei prima fare una panoramica un po' sul momento, diciamo su questo inizio di 2015. Il governo Renzi non appare più così granitico, Lamberto Bottini ha un po' criticato, il grande suffragio delle elezioni sembra essere messo in discussione, ci sono decisioni importanti da prendere, ci sono critiche che arrivano, finora il Premier si è recavata, però siamo un po' alla resa dei conti. Questo è l'anno decisivo per questo governo e quindi prima linea per il Partito Democratico che sostiene appunto il capo del governo. Che cosa arriva in questo 2015 delle tante cose che sono state annunciate? Questo lo vedremo tutti quanti, insomma, col passare dei prossimi mesi. Io penso che il calendario dei lavori sia un calendario importante, sia in un certo senso come l'elencazione dei temi da affrontare che questo Paese deve affrontare. E credo che il governo li abbia messi nel mirino in maniera molto propria. Questo non significa, come dire, passare automaticamente all'incasso. Conosciamo la situazione del Paese, la sua crisi profondissima e anche, come dire, una riforma, diciamo, complessiva, costituzionale, istituzionale, ma direi anche del sistema politico che ancora non è in un certo senso avvenuta. Per cui è evidente che nel Paese permane anche un nervosismo profondo nella rappresentanza, nella dinamica parlamentare che in un certo senso, come dire, aggiunge difficoltà a quelle che sono le riforme da fare. Dal mio punto di vista posso dire questo. Il programma del governo, che ovviamente il PD sostiene, è un programma ambizioso, e mi auguro che il governo possa effettivamente muoversi, credo che possa averne la forza e anche i numeri in Parlamento, per fare riforme di progresso, perché non basta soltanto dire riforme, bisogna guardarci a volte dentro, e effettivamente devono essere, dal mio punto di vista, riforme che non arretrano sul versante dei diritti, sul versante di una democrazia avanzata, ma che, come dire, portano in avanti il nostro Paese, lo modernizzano, lo rendono più efficace ed efficiente, lo rendono credibile in Europa, ma con una operazione di coinvolgimento generale, che parte ovviamente da un sforzo che deve riguardare tutto il Paese, senza che magari, come dire, nel meccanismo delle riforme, possa rimanere attardato o indietro qualche categoria, qualche fascia magari più debole. Ecco, questo è un punto molto importante, perché nel momento in cui c'è una difficoltà, appunto, larga, sociale ed economica, vorrei che rimanesse un punto importante, che, come dire, ha, in un certo senso, a soffrire questa situazione, non siano sempre gli stessi, come si dice a volte con una frase molto secca. Ecco, questo è il punto, secondo me, centrale. Dopodiché, ma auguro che, come dire, i cittadini possano comprendere la portata, l'esigenza, la necessità, anche di queste riforme, con molta ponderatezza, con molta consapevolezza, senza, come dire, giocare a rimpiattino e scaricare, insomma, come a volte succede nel nostro Paese, le responsabilità di qua e di là, magari chiamandosi fuori da un problema che, invece, evidentemente, per come si è determinato, coinvolge tutte le categorie, tutte le fasce sociali del nostro Paese. Rocco Valentino, anche il centro-destra non è esente da critiche. C'è Alfano che è nel governo, c'è Berlusconi che appoggia Renzi, è parte importante delle decisioni che deve prendere Renzi. Ogni tanto vacilla l'intesa e anche da fuori ci si chiede, ma questo centro-destra è unito oppure è ancora una opposizione frammentaria? Com'è? Guardi, innanzitutto voglio dirle una cosa. Questo grande soffraggio elettorale di Renzi non l'ho visto escluso le europee, perché Renzi non è che è stato legittimato a governare dal popolo italiano, è stato legittimato da qualcun altro a governare l'Italia, perché lui ha avuto un grande successo alle europee, però questo grande successo alle politiche non c'era lui, quindi il PD non l'ha avuto, quindi bisogna chiarire innanzitutto questo aspetto. Da un po' di tempo a questa parte i governi che sono succeduti in Italia sono un governo legittimato, perché l'unico governo legittimato era il governo Berlusconi, è caduto come è caduto, dopo Monti, dopo Letta, fino a arrivato Renzi. Fatta questa piccola premessa, sul centro-destra c'è da dire esattamente se siamo uniti o non siamo uniti. Oggi come oggi il centro-destra non è compatto, mi auguro di cuore che il leader politico Silvio Berlusconi riesca in questa grandissima impresa di ricompattare di nuovo il centro-destra e di marciare uniti. Certamente oggi Alfano sta con la maggioranza, appoggia il governo Renzi, ma nello stesso punto il cosiddetto patto del Nazareno, che lo sanno tutti quello cos'è, c'è anche Berlusconi che appoggia per le riforme Renzi. Mi auguro di cuore che queste riforme vengono fatte, perché l'Italia ha bisogno di riforme, ha bisogno di riforme sul lavoro, ha bisogno di riforme per rilanciare l'Italia, ma tutt'oggi sinceramente, oltre che parole, io non le ho viste tutte queste riforme che Renzi dice di fare, che imbuonisce gli italiani per televisione e per Twitter e dice che fa le riforme. Anche ieri è uscito su Twitter di Renzi che entro il 28 febbraio farà la riforma della scuola. Mi auguro di cuore che riesca a fare la riforma della scuola, ma mi viene da ridere perché sono 50 anni che bisogna fare la riforma della scuola e nessuno ci è riuscito. Mi auguro che ci riesca lui e ci riesca a fare altre riforme per il bene dell'Italia, per il bene di tutti gli italiani e in particolar modo sperando che queste riforme portino a lavoro gli italiani, cosa che fino ad oggi mi sembra che non è successo niente di tutto ciò, quindi sono molto critico nei confronti di Renzi che invece di imbuonire gli italiani e di fare poclami è ora che si rimbocca le maniche, che lui cammina sempre con la camicia, col pullover e dia una mano agli italiani di portare avanti questo nostro paese che ha bisogno veramente di un rilancio economico per il bene di tutti quanti. 2015 dovrà essere dunque un anno di svolta e per scendere di livello diciamo così si parla molto anche dell'assetto politico istituzionale di questo paese, è iniziato un processo di cambiamento con l'abolizione, la cosiddetta abolizione delle province, perché le province non sono state abolite, stanno sempre lì davanti alla provincia di Perugia c'è una grossa calza della Befana che scende giù con il carbone dentro e poi Bottini è in ballo anche un altro discorso che riguarda le regioni, le macro regioni, gli accorpamenti, se ne parla ma che cosa ci si aspetta, ci si può aspettare su questo versante, sulla riforma proprio delle istituzioni. Il discorso questo è veramente un discorso importantissimo, imponente in itinere, partiamo diciamo così da, cerchiamo di dare un ordine alle cose, a livello nazionale, riforma del bicameralismo, credo che sia una riforma attesa da tanto tempo, è evidente che c'è un'anomalia italiana rispetto al fatto che ci sono due camere che fanno la stessa cosa e dico subito, non è per una questione dei costi, è per una questione di efficienza dello Stato a livello centrale, c'è una riforma che credo si possa chiudere rapidamente e che credo che mandi il segnale giusto con il superamento del bicameralismo, dopodiché io so perfettamente le cose si possono fare sempre in tanti modi, qui c'è una riforma che prospetta il superamento del Senato per come l'abbiamo conosciuto e per cui funzioni distinte e inevitabili, non più una duplicazione tra quello che farà la Camera e quello che farà il Senato che rappresenterà fondamentalmente le regioni e quindi con o non con senatori eletti direttamente. Legge elettorale è un altro pezzo delle riforme molto importanti che in un certo senso è agganciata alla riforma costituzionale, anche lì mi pare con un atteggiamento molto proprio, le leggi elettorali non sono mai per sempre e così via, sono sempre calati in un momento anche particolare delle storie politiche dei vari paesi, mi pare che l'approccio di addivenire a una legge elettorale dove convergono gran parte delle forze politiche, per cui che viene poi rispettata dalle forze politiche, sia importante, anche lì mi pare che siamo vicini. Il superamento delle province, perché noi oggi ricordiamo che la Costituzione prevede lo Stato, le città metropolitane, le regioni, le province, i comuni, forse troppi livelli, eccetera. E quindi ridefinire bene le funzioni andando a semplificare il quadro istituzionale. Il superamento delle province è una questione abbastanza complicata, credo che anche lì le cose si potevano fare diversamente. Oggi c'è un punto, le funzioni restano, credo che debba rimanere anche un altro punto, offrire certezze a un personale che da un giorno all'altro si è trovato incomprensibilmente spiazzato, pur condividendo il quadro di andare verso una semplificazione. Poi si arriva alle regioni, ci sono già disegni di legge depositati, ecco io credo qui che ci sia bisogno di incentivare il ragionamento politico e non tenersi distanti da una riforma magari sulla quale bisogna concorrere anche a livello regionale perché magari si arrivi a una riforma condivisa importante. Qui l'Umbria che apparentemente è una regione fragile, piccola dal punto di vista geografico e demografico, può politicamente giocare un ruolo molto importante nella riforma anche delle regioni, perché è la regione che collega in un certo senso regioni dell'Italia centrale molto importanti, è la regione che collega diciamo così, pur non affacciandosi, ma a due mari, per cui io credo che sul versante di un ragionamento che possa vedere anche un protagonismo dell'Umbria rispetto alle Marchie, rispetto alla Toscana, rispetto all'Alto Lazio e possa anche a questa regione garantirgli anche una prospettiva, una centralità ulteriore. Penso anche alla nostra città, penso anche a Perugia, che potrebbe in un quadro di un'area vasta così concepita ritrovare un nuovo slancio, una nuova dimozione, un nuovo protagonismo, una nuova centralità. E da questo punto di vista i fenomeni come sempre non vanno un po' subiti, vanno un po' incanalati e credo che da questo punto di vista le forze politiche, le forze sociali, economiche anche della nostra regione su questo tema, che è un tema centrale anche per lo sviluppo, debbano incalzare una riforma della quale ormai si parla, per poter assicurare agli Umbri in questo caso maggiori opportunità in prospettiva per la qualità economica della nostra regione, per la qualità sociale dei nostri cittadini, per un futuro migliore e positivo. La premessa che ha fatto Lamberto Bottini in effetti era facciamo il punto, mettiamo ordine, perché le province, sì, la riforma però stanno ancora lì e i lavoratori chiedono di sapere che cosa andranno a fare. Nel contempo siamo andati avanti anche questo progetto di cambiare le regioni, ci sono progetti per cui l'Umbria andrà con la Toscana, altri che la vedono con le Marche, però è tutto un divenire, ma sostanzialmente è tutto ancora da fare, Valentino, cioè questo assetto… Io sinceramente penso una cosa, penso che la politica, il compito della politica è farsi delle domande quando fa delle riforme, che porta avanti le forme in particolar modo sulla chiusura delle province, perché io personalmente la penso in determinato modo, la provincia è un ente, è sempre un ente vicino alla gente, vicino ai cittadini, mentre la regione è molto lontano dai cittadini, nel senso che se il governo ha cominciato a parlare dell'abolizione della provincia, si doveva porre il problema anche dei dipendenti delle province, che non sono pochi, guardiamo l'Umbria perché abbiamo soltanto due province, ma in molte regioni sappiamo benissimo quante province possono esistere, prendiamo l'esempio della Lombardia oppure della Sicilia, oppure di altre regioni dove esistono più province, facciamo il totale dei dipendenti, quanto sono in tutta Italia e prima di fare delle mosse politiche azzardate uno si dovrebbe chiedere come mai, che fine faranno queste persone che lavorano, non sa cos'altro diritto, hanno lavorato da una vita in provincia, continueranno a lavorare, non penso che le manderemo a spasso e penso che la politica dovrà prendere provvedimenti sui dipendenti della provincia, non è che hanno fatto bene soltanto a mettere la calza della Befana i nostri dipendenti provinciali, potevano mettere anche qualcos'altro, perché con i tempi che corrono io non ne so nessuno, però le cose non vanno bene. Dopo sulle macro regioni, io non sono stato mai un conservatore, dottor Giovagnoli, comunque gli dico, delle macro regioni se ne parla già la fondazione Agnelli ne parla da 30 anni delle macro regioni, se si è parlato della macro regioni all'Umbria non si sapeva se doveva andare con la Toscana, con l'Alto Lazio, con le Marche, con questo, con l'altro, mio parto ha un presupposto che ogni regione, io ero grandicello nel 70 quando sono nate le regioni, non le volevo come partito, non le ho mai volute le regioni, però sono nate, l'hanno volute il centro-sinistra, la regione l'hanno creata, adesso parlano di macro regioni, non si capisce il motivo perché parlano di macro regioni, forse perché pensano ci sarà la riduzione della spesa, ci sarà la riduzione di questo, io credo poco a queste cose, perché ogni regione ha i souci, i costumi, le tradizioni, la cultura, mi sembra strano che il popolo Umbro, conoscendo il popolo Umbro, che già è molto diverso, per esempio gli orvietani sono molto diversi dai perugini, i terrani sono diversi dai castellani, i tuderti sono diverse cose, mi sembra strano che questa gente qui si possa, si può lavorare insieme alla regione Marchio, la regione Toscana, la regione cosa, la regione dell'Umbria come diceva il mio collega Lamberto Bottini è una regione piccola, una regione piccola però ha un potere economico immenso, io l'ho sempre detto, l'Umbria è una regione che potrebbe vivere soltanto di turismo, è una regione che potrebbe vivere delle piccole e medie imprese, è una regione che può vivere di tante cose perché è un popolo, il popolo Umbria è un popolo che si inventa le cose, è inventivo, riesce a fare tutto, quindi credo poco a queste macro regioni, se dopo il governo ci dirà che l'Umbria deve andare con le Marche, con l'Acio o con la Toscana prenderemo atto e cercheremo di remare insieme con i marchigiani, con i toscani oppure con i laziali per portare avanti le macro regioni, io ci credo pochissimo anche perché credo nell'identità Umbra e continuerò a crederci nell'identità Umbra però insomma cambierà anche il ruolo dei consiglieri regionali perché il 2015 mette a regime comunque sia una riforma, i consiglieri da 30 diventano 20, ci sarà comunque un'ottica di sovravisione delle cose, cioè anche perché saranno meno dovranno occuparsi di più di territori che rimarranno anche scoperti e c'è anche a questo proposito, lo segnalo perché cominciano a levarsi voci di dissenso dai vari territori, uno dei primi Orvieto che abbiamo nominato, sulla nuova proposta di legge elettorale regionale che è in discussione in questo momento perché penalizzerebbe dei territori che sono a rischio di non essere più rappresentati, insomma cambia profondamente anche comunque la regione e il vostro ruolo o il ruolo dei consiglieri regionali che nel 2015 saranno eletti a rappresentare tutta l'Umbria Bottini, un cambiamento drastico anche qui. Siamo in una fase di cambiamento che coinvolge le regioni e quindi è il ruolo stesso delle regioni, l'abbiamo già detto, è evidente che con una rivisitazione anche del titolo quinto, di tutte le materie concorrenti, si ridefiniscono le competenze delle regioni e questo sarà evidente nella nuova legislatura. Dopodiché c'è una diminuzione del numero dei consiglieri, mi auguro il rapporto anche alle nuove funzioni, anche qui si è fatta una riforma, si è andata in una certa direzione, 20 consiglieri con una regione chiamata a funzioni differenti e più precise rispetto a quelle attuali possono essere sufficienti per svolgere insomma il ruolo di legislatori rispetto alle nuove materie di competenza. Siamo alle prese con una nuova legge elettorale, d'altra parte è evidente che tutte le regioni in qualche maniera sono alle prese con questo processo di riforma a maggior ragione dopo la sentenza della Corte Costituzionale che riguardava la legge nazionale, il famoso Porcellum, ma che a caduta investe le varie leggi regionali. C'è una commissione che sta lavorando su questo, c'è una commissione dove tutte le forze politiche sono state portatori, portatrici di una propria opzione, di una propria ipotesi di legge elettorale, credo che siamo alla stretta e credo che il mese di gennaio, primi di febbraio più o meno, debba vedere l'Umbria dotarsi di una nuova legge elettorale. E perché ci sono queste preoccupazioni dei territori, di Narni, di Orvieto? Prima ragionavamo di macro regioni, adesso stiamo ragionando di un numero di consiglieri che non sarà più di 30 ma di 20, è evidente che bisogna cambiare schema del ragionamento, cioè tutto quello che erano parametri di riferimento precedenti cambiano e non c'entra più quel tipo di ragionamento. Si invecchia automaticamente ragionando le competenze nuove e di numeri per quanto riguarda. Noi stiamo cercando di ragionare di regione complessivamente intesa, facendo grande attenzione ai territori, ma in un'ottica funzionale a una dimensione dell'Umbria regionale. E da questo punto di vista c'è un'ipotesi depositata che parla di collegio unico regionale, c'è un'ipotesi che cerca in qualche maniera di valorizzare i vari territori ma con uno scatto in avanti, non più i nuovi consiglieri, diciamo così, che siano una esclusiva proiezione dei propri territori, quasi che fossero alla fine rappresentanti esclusivi dei territori stessi. No, bisogna ragionare per i motivi che sono ormai evidenti in un'ottica regionale e da questo punto di vista credo che anche le candidature debbano vedere uno sforzo che vada in questa direzione. Dopodiché è evidente, la rappresentanza è il cuore in un certo senso della democrazia ed è giusto che su questo tema ci si confronti in maniera molto serrata, ma la legge elettorale che si sta in qualche modo definendo, che arriverà in aula, credo è una legge elettorale che ragiona in termini di collegio unico, ragiona su frontiere nuove anche per l'Umbria, mi riferisco alle preferenze di genere, ragiona ancora in un'ottica coalizionale, senza spocchia o autosufficienza del Partito Democratico, questo per consentire in qualche maniera l'assunzione di responsabilità diretta di altre formazioni politiche e così via e in un certo senso muove cercando di riformare l'attuale legge e quindi di essere in linea anche con quelle che sono state le indicazioni, o meglio di non incappare in quelle che sono state le direttive da rispettare della Corte Costituzionale. Rocco Valentino, ma perché questa legge elettorale solleva critiche prima ancora di essere fatta? Perché ancora non è stata scritta. Innanzitutto il porcellum in Italia è stato bocciato perché un cittadino ha fatto ricorso, perché se non avesse fatto ricorso questo cittadino il porcellum durava ancora. Ci sono delle regioni in Italia, guarda la legge regionale toscana, il porcellum, la legge regionale toscana gli fa un baffo, nel senso che è una legge elettorale che prevede liste bloccate, senza preferenze, senza niente. Allora, io la penso in un certo modo, vado in commissione dove si tratta della riforma della legge elettorale, ho precisato la prima volta che sono andato, dal mio punto di vista, la legge elettorale a Umbria, e l'ho detto per primo, quello che c'è adesso, attualmente quello che c'è, è una delle migliori leggi. Leviamo il listino, facciamo tre, quattro modifiche, senza inserire, io la penso in terminato modo, al contrario del mio amico Bottini, di tanti amici miei del centro-destra che la pensano sulla preferenza di genere, completamente diversa dalla mia posizione, perché io parto dal presupposto che è giusto e sacco santo che le donne si mettono in lista, ma è giusto e sacco santo che le donne vadano a prendere i voti, come fanno gli uomini a prendere i voti, come è successo, come va avanti fino adesso, ci sono tantissime donne brave, bravissime, che riescono a prendere le preferenze, ci sono donne meno brave che non prendono le preferenze, quindi lo dichiaro pubblicamente, apertamente, non voterò mai una legge dove c'è la preferenza di genere inserita, non la voterò mai, perché per me sia l'uomo che la donna devono essere messi sullo stesso livello a correre, non si può avvantaggiare una donna perché è una donna e penalizzare un uomo perché è un uomo. Fatta questa piccola premessa, oggi come oggi io ho sollevato anche delle perplessità sul premio di maggioranza nell'attuale proposta di legge presentata dal PD, presentata dal gruppo PD e dal partito del PD, sono delle cose che non vanno e viene contestata anche dai territori, al di là, sull'aspetto regionale io la penso come il mio collega Bottini, nel senso che il consigliere regionale deve fare il consigliere regionale, non può fare il consigliere comunale in regione, portare avanti soltanto le tematiche del proprio territorio, deve pensare a tutta la regione e molti consiglieri regionali, esclusse i consiglieri, non dico le cose, fanno normalmente i consiglieri comunali, portano avanti tematiche che rispettano il loro territorio, il consigliere regionale deve pensare a tutta la regione, tutto quanto, deve pensare a tutta la regione, quindi abbiamo fatto bene a diminuire i consiglieri regionali perché ce l'aveva imposto anche il governo di diminuirli, quindi è stato fatto bene. La legge regionale verrà discussa in commissione dopo il consiglio regionale, però così come solleva molte perplessità perché il PD la vuole fare da padrone, vuole fare da padrone a casa sua e vuole farla da padrone anche a casa degli altri, quindi non va bene a tanti partiti, a tanti gruppi la legge così come è composta, se la vogliono fare da padrone devono fare i conti anche con l'opposizione, devono fare i conti anche con partiti di maggioranza, che non ci stanno a questa legge elettorale, non ci possono stare perché penalizza moltissimo molti partiti, così come se andiamo ad elezione il PD dovesse vincere l'elezione, mi auguro di cuore di no che le perdono perché sono convinto che le perdono, come hanno perso Perugia e come hanno perso tante altre città, varranno da padroni. Ci sono 30 secondi rimasti ciascuno, allora una risposta flash veramente. Valentino, perché non le sono piaciute le scelte sull'aeroporto di Perugia? Ha detto che è sbagliato affidarsi a un solo vettore, qual è il problema di questo? No, guardi, nessun problema, io credo molto all'aeroporto perché l'aeroporto l'ho sempre difeso quando ero consigliere capogruppo in comune e continuerò a difendolo perché l'aeroporto di Perugia è l'aeroporto che può dare uno slancio vitale all'Umbria, mi auguro di cuore che venga valorizzato più di quello che è, che i passaggieri continuano a criticare la conduzione dell'aeroporto perché è inutile appoggiare soltanto una società, loro dicono che non è l'unica, però a me risulta che è l'unica perché prima di scrivere mi informo per bene e faccio la valutazione e dopo le compagnie aeree, lo sappiamo benissimo tutti quanti come funzionano, che per venire a Perugia vogliono essere pagate, non sono loro che pagano ma siamo noi che paghiamo, quindi queste cose bisogna chiarirle e dopo ho avuto delle informazioni che l'aeroporto oggi come oggi non è al di là dei voli, non riesco a capire perché non si fanno tanti altri voli con l'Europa per collegare benissimo Perugia con l'Europa, vi spiego meglio per esempio, noi abbiamo un turismo che può essere il cosiddetto turismo ecclesiastico oppure il turismo di fede, parliamo San Francesco, turismo religioso, si sa, allora non riesco a capire perché invece di venire nel nostro aeroporto vanno tutti quanti a Roma e dopo si trasferiscono col pullman in Umbria, perdendo grossi introiti dal turismo internazionale e anche dal turismo nazionale, tutto questo. Bottini, il nostro tempo è già scaduto però la domanda c'è e la faccio, chiedo solo una risposta veramente flash sulla sanità. Il capogruppo del PD ha detto che si sta facendo un grosso sforzo per eliminare il fenomeno dei letti nelle corsie dell'ospedale, in che consiste questa riorganizzazione? Partiamo da un punto, l'Umbria, una buona sanità, qualche problema. Uno di questi, forse il principale, è quello delle liste d'attesa. Mi pare che sia messa in moto un'operazione pubblico e privato con la disponibilità degli operatori in termini di prestazioni, in termini di orari, di prolungamento degli orari per cercare di aggredire in maniera decisa questo fenomeno che rappresenta l'ombra sulla sanità ombra che per il resto è una sanità di riferimento. Per cui l'azione della giunta regionale che è partita, concentratissima su questo versante, mi auguro che possa dare quei risultati, sono convinto di sì, che risolvono in maniera decisiva o ammorbidiscono un problema che è diventato veramente, diciamo così, fuori controllo. Perfetto, che siano auguri anche questo. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.